signori miei stavo per andare a letto poi ho letto il lungo post di cristiano ronaldo e ho deciso che non si poteva andare a nanna infatti sono in pigiama sembro spugna di peter pan non si poteva senza parlare di questo piccolo dettaglio che sembra piccolo ma probabilmente è il primo grande indizio se vogliamo di come andrà questo calcio mercato ragazzi il post di ronaldo sa molto di addio sa molto di addio lo potete trovare sui suoi profili su tutte instagram facebook dappertutto da parte sua e adesso andiamo un po sviscerarlo a fare anche un parallelo in confronto a quello che era stato il suo trasferimento dal real proprio alla juventus mi piace a questo video fatemi sapere qui sotto nei commenti secondo voi se è giusto salutare ronaldo se ci mancherà se facciamo bene eventualmente alla rovia se facciamo bene eventualmente a cercare di convincere o per una permanenza voglio sapere la vostra opinione anche se il vendiamo otteniamo uscirà molto presto perché avete già espresso le vostre preferenze per quanto riguarda gli attaccanti ve lo farò avere il prima possibile e ovviamente scaricate one football per rimanere aggiornati su tutti i movimenti di cristiano ronaldo in uscita in permanenza alla juventus il nuovo allenatore c'è il cda della juventus bisognerà un attimo capire quello che succederà anche lato exor si parla di un momento di capitale da cui passa poi tutto il calcio mercato allora cristiano ronaldo nel 2018 annuncia di voler lasciare al real madrid e lo fa nella finale di champions league tra real e liverpool vinta proprio dal madrid e lo fa a fine maggio era il 26 maggio del 2018 ora è la notte tra il 24 e il 25 quindi diciamo che il momento è il medesimo c'è ancora giocare la finale di champions quest'anno però siamo nello stesso periodo nello stesso arco temporale cristiano ronaldo poi quell'anno va a giocare il mondiale col portogallo e lo fa interamente da giocatore del real madrid finisce il mondiale intorno a fine giugno e il 10 di luglio cristiano ronaldo è ufficialmente un calciatore della juventus poi ricorderete l'arrivo a torino proprio nel pomeriggio della finale del mondiale tra croassia e francia a fine primo tempo mentre le squadre stanno giocando apriamo i nostri social network sblocchiamo i nostri smartphone vediamo le foto di ronaldo atterrato pubblicate sul profilo della juventus quindi capite che bene o male c'è un parallelo tra queste due cose ronaldo ci fa sapere che in italia ha vinto tutto quello che poteva vincere che è stato un onore per lui riuscire a dominare nei tre campionati maggiori a livello nazionale di essere contento di aver vinto tutti i trofei possibili di aver vinto anche dei trofei individuali come quest'anno il capo cannoniere e fa un riassunto dicendo che guardandosi indietro è contento di quello che ha fatto che il calcio sia uno sport di gruppo di collettivo però bisogna sempre lavorare a livello individuale per essere il migliore dovesse essere vero dovesse essere un post d'addio prepararci all'annuncio che vuole lasciare la juventus nel momento in cui ronaldo va annunciare che vuole lasciare la juventus è perché qualcosa si è mosso sulla prossima destinazione e bene o male già un'idea di dove andare ce l'ha si potrebbe ragionare anche eventualmente lato allenatore perché eventualmente un addio di ronaldo potrebbe spingere verso una conferma di andrà pirlo che magari potrebbe ricominciare a cementare creare un gruppo molto più compatto proprio come la partita di ieri nella quale ronaldo rimane fuori infatti io quando visto ronaldo fuori dei titolari ragazzi ieri ci sono un po rimasto male diciamo così faccio ancora un po fatica a credere al ronaldo era un po stanco mi ha chiesto di non giocare con questo post ed eventualmente questa notizia possiamo leggerla come un abbiamo evitato un infortunio perché cristiano ormai è prossimo al trasferimento e non voleva rischiare nemmeno di perdere l'europeo queste sono chiavi di lettura possibili e quindi potrebbe significare una conferma di andrà pirlo in panchina oppure un ritorno di massimiliano allegri in panchina tante volte si è detto che allegri voleva spingerla juventus verso una cessione di cristiano ormai quando si è parlato del ritorno di allegri si parlava di un allegri che diceva ok torno ma non ronaldo e si dibala e quindi la cessione di ronaldo potrebbe addirittura accelerare il rinno di contratto di paolo dibala sicuramente spingerebbe via l'ipotesi di zidane che secondo me è poco concreta ripeto io credo poco a zidane allenatore della juventus l'anno prossimo devo essere sincero perché andare a prendere zidane significa un grandissimo sforzo economico che si traduce in un altro grande sforzo economico cioè trattenere cristiano ormai e si traduce in un grandissimo investimento in chiave mercato non puoi prendere zidane per poi fare un mercato non all'altezza quindi nella mia testa zidane è qualcosa di quasi impossibile è molto più probabile un addio di cristiano ormai molto più probabile un non arrivo di zidane un arrivo di allegri o una conferma di pirlo a questo punto bisognerà capire appunto zidane cosa vorrà fare a madrid se max andrà là o addirittura l'inter perché si è aperta questa clamorosa ipotesi nel caso di addio di conte dicono che a napoli senza champions allegri non andrà ragazzi vedete com'è tutto aperto però questa di ronaldo e con l'ufficialità che abbiamo avuto ieri di un ronaldo in panchina la motivazione ufficiale appunto è perché era stanco però voi capite bene che secondo me regge veramente poco una motivazione all'ultimissima giornata di campionato negli ultimi 90 minuti decisivi di ronaldo che è stanco e ronaldo si sarebbe riposato poi al termine di quella partita avrebbe potuto giocare il primo tempo e poi valutare i primi 60 minuti cristiano ormai un campione capo canale della serie a giocatore con più marcature nella rosa della juventus tenendo fuori una partita decisiva suonava strano poi col senso di poi abbiamo visto una juve bellissima qualcuno dice perché non c'è ronaldo può essere penso che che sia una chiave di lettura abbastanza interessante certo è che se la juventus è arrivata in champions può ragionare sulla prevenenza di ronaldo in caso d'europa league ero quasi totalmente 99.9 per cento dell'idea che non avesse senso mantenere cristiano ormai di rosa oggi invece un senso c'è perché se in champions e con un allenatore di un certo tipo puoi giocarti un ultimo anno di ronaldo ad alti livelli oppure oppure l'alternativa appunto è rinnovare paolo ibala e salutare cristiano ronaldo perché magari ha avuto un'offerta interessante intrigante che potrebbe essere il manchester il psg potrebbe essere appunto lo sporting di cui si era parlato non sono tanti i club che potrebbero accogliere cristiano ronaldo in questo momento è diciamo che bene o male sono questi e qualcosa si potrebbe muovere quindi occhi aperti queste sono orecchie orecchie aperte occhi aperti si vede che è tardi che è quasi notte perché non mi sorprende come tempistica se ronaldo decide di andarsene sicuramente sarà il primo colpo in uscita della juventus perché bisogna iniziare a parlare adesso è ronaldo non si muove all'ultimo minuto ronaldo si si muove si muove all'inzio del mercato l'abbiamo visto anche l'altra volta l'abbiamo visto quando è andato a madrid quindi ronaldo se si muove lo fa subito e il fatto che si muova subito ronaldo va a muovere anche la panchina della juventus sia in un senso che nell'altro conferma di pirlo o allontanamento di pirlo sembra lo so lo so che sembra un post così tanto per io non lo leggo però in questo momento come un post così tanto per perché veramente sembra esserci sotto qualcos'altro poi magari mi sto facendo una paranoia inutile io e cristiano ronaldo rimarrà a juventus però ripeto in caso di permanenza la juve lo deve dichiarare adesso lo dichiara adesso nel senso se lui è in testa di andar via ai venti si è già stata comunicata questa volontà non so bene o male è ovvio che immaginare adesso la buttiamo lì uno scambio tra cristiano ronaldo e paul pogba tra juventus e manchester per noi sarebbe molto bello perché vai a rinforzare un reparto che quest'anno è stato il tuo vero e proprio punto debole vai ad allontanare un giocatore che un classe 85 in cambio di un giocatore classe 93 appunto in un ruolo che poi ti serve pure un giocatore che conosce l'ambiente eventualmente in caso di pirlo conosce pirlo eventualmente in caso di allegri conosce pure allegri può dovesse davvero essere sedan e pure francese quindi si si possono intendere sembra veramente un po il giocatore ideale no il punto di ritorno di pogba in bianconero proprio in cambio di cristiano ronaldo che sono due operazioni abbastanza mediatiche per nomi per ingaggio perché vai a spostare dei giocatori che hanno dei grossi ingaggi e di valore il mercato e sarebbe interessante utile incastrarlo ora perché ovviamente tutto quello che viene fatto prima del 30 giugno per la juventus euro euro che cola euro colato quindi sono tante piccole cosine che le metti giù e ti fanno pensare che forse il post di ronaldo nasconde davvero qualcosa illazioni e oh sono tornate prima l'azione della stagione 2021 2022 però ragazzi non dimentichiamoci che da ieri dal fischio finale del napoli contro il verona è iniziata una stagione da questo momento in poi ogni istante è buono per iniziare ad annusare un po la per tutto degli indizi e provare a costruire delle teorie dei castelli di carta io non sono un giornalista io non ho delle informazioni io interpreto raccolgo tutto quello che c'è sul web provo a spolverarlo tolgo quello che secondo me c'entra quello che secondo me non c'entra è proprio a vomitarvi addosso la ricostruzione che potrebbe fare al caso mio al caso vostro voglio sapere la vostra signore perché quello che può sembrare un banalissimo in innocente post potrebbe essere l'inizio del domino che fa aprire in maniera clamorosa il nostro calcio mercato e ovviamente è ovviamente una juventus che va a cedere cristiano ronaldo va a liberare intanto tanto spazio salariale all'interno della rosa che può tradursi appunto in arrivi di alto livello oppure semplicemente una juventus che ha necessità di vendere di cedere di alleggerirsi il bilancio e inizia dal giocatore per eccellenza la vera stella del campionato che però classe 85 quindi abbastanza vecchiotto tempo passa per tutti quest'anno rischiamo di salutare ronaldo buffon che bene o male sono stati due idoli due icone di del calcio da quando lo seguo almeno non voglio esagerare andare oltre ma sicuramente del calcio da quando lo seguo quindi si chiude un ciclo che è quello del dominio juventino in italia con gli scudetti e si potrebbe chiudere un ciclo anche a livello di nomi grossi per la juve per ricominciare a sognare e ricominciare a coltivare tanti giovani talenti che domani potrebbero diventare i prossimi cristiano ronaldo grazie a tutti